Ciao a tutti e bentornati come una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo nuovamente su No Man's Sky. Perché siamo su No Man's Sky? Perché c'è stato l'ultimo aggiornamento. E' un po' dire la verità che non giocavo a No Man's Sky, ma l'ultimo aggiornamento mi ha piuttosto incuriosito. Non sono state fatte tante modifiche sui gameplay o aggiunte, diciamo, di contenuti. Ma ricordiamo comunque in passato ci sono stati gli animali domestici, i nuovi tipi di nave, le modifiche alle navi, la cooperativa migliorata, insomma un sacco di cose. E se ricordate bene, No Man's Sky è un gioco su cui io puntavo molto e sono stato anche il primo a prenderne le distanze. Perché alla fine non era quello che avevano promesso. Ed è forse l'esempio più evidente di come una casa di produzione possa riscattarsi nel corso degli anni. L'ultimo aggiornamento è stato, diciamo, più o meno come la ciliegina sulla torta. Cioè, hanno aggiunto la grafica, che è quella che vedete qua, questi riflessi così belli sulla nave. Hanno aggiunto tantissimi effetti grafici nuovi. È stato, diciamo, un revamp della grafica, se così si può dire. Ed è il motivo per cui ho voluto farvi questo video. Prima di tutto andiamo a vedere, così ve lo faccio vedere in modo molto, molto genuino, le impostazioni grafiche, che sono tutte a ultra. Eh, ragazzo, giovane, mettimi anche i riflessi a ultra, così ce li vediamo bene. È giusto anche per capire se effettivamente è un po' esagerata la grafica. Io ricordo che qua c'era il vetro, ora dovrebbe esserci comunque, però forse le ombre, vabbè. Questi effetti di vapore volumetrico non c'era, questo ve lo posso dire. Mamma mia, che riflessi. Mamma mia. La sto giocando con una 980, quindi... Eff, una 980, una 2080, scusatemi. Ok. E l'interno non è assolutamente male. Ricordo anche che magari una sera potrei portarvi il gioco in VR, anche se è piuttosto impegnativo. Molto bello il fatto che comunque ci sono queste cose. Vediamo un po' i pedali, se li usa effettivamente o meno. Vediamo una volta che siamo fuori. Vediamo se li usa per... No, non viene usato più di tanto, però va bene. Volevo farvi vedere magari un pianetino, giusto per vedere un pochino la grafica. Pianeta sotto zero, magari ci guardiamo un altro tipo di pianeta, magari qualcosa di più interessante. Il pianeta paradiso, che non mi piace tanto a dire la verità. Abbiamo la luna caustico. Ah, ecco, dovrebbe esserci anche una... Ecco, questo effetto di esplosione sugli asteroidi che è stato migliorato. Poi vi dico la verità, io sono abituato magari a No Man's Sky e non mi accorgo più dei particolari. Però, ricordo che avevano aggiunto comunque anche l'atmosfera al pianeta. Atmosfera nel senso che... Nel senso che all'inizio si entrava nel pianeta e finiva lì, ora invece ci sono le nuvole, ci sono... C'è diciamo quello strato che fa appunto ripensare a quella che è un'atmosfera. Ora, andiamo a dare un'occhiata, intanto ci guardiamo un pochino questa nuova grafica che risulta anche, magari nei momenti di caricamento iniziali, un po' pesante, a dire la verità. Però, ecco, ho letto anche la news che ormai i giocatori di No Man's Sky si sentono appagati. Poi vi spiego a brevissimo anche che cos'è esattamente No Man's Sky. Ma hanno fatto un'ultima richiesta all'Elo Games, agli sviluppatori, quello di aggiungere una minimappa in partita, che non c'è, ma c'è attualmente, forse solo in nave. Comunque, quello che volevo dirvi, che cos'è No Man's Sky? No Man's Sky è, in parte che lo conoscete già, ma non vi spiegherò quali sono le meccaniche, qual è la cosa bella, diciamo, che li contraddistingue. E che avete un percorso che è ad ogni partita lunghissimo. I tutorial sono veramente estenuanti, ma perché vogliono spiegarvi tutto. Ma poi, quello che voi potete ottenere in gioco è un qualcosa di paragonabile, secondo me, a un MMORPG. Nel senso che non è un classico gioco con la storia. La storia c'è, certo. Però, quello che riguarda il vostro equipaggiamento, la vostra nave, i moduli che avete, ce ne sono alcuni rarissimi. E soprattutto, più vi impegnate, più fate soldi, più riuscite comunque a guadagnare. Quindi, può darsi che voi lo giocate tanto, un vostro amico poco, e voi avrete accesso a delle cose che magari il vostro amico non ha mai visto. Insomma, al tempo stesso, un amico avrà un tipo di nave che voi non avete mai incontrato. Ma, diciamo che la cosa più intrigante per me è il fatto, appunto, di avere queste... Il fatto di dire, io ci ho giocato oltre a 100 ore a No Man's Sky, ma con una partita non sono mai andato talmente avanti che non ho mai fatto soldi abbastanza da comprarmi un mercantile mio. O di comprarmi altre cose, insomma, di un certo valore. Non sono mai arrivato a maneggiare certe tecnologie del crafting di certi oggetti, di certi materiali. Quindi, è figo per questo. Intanto, il tutorial mi sta dicendo che, questo è una delle vecchie aggiunte gratuite, il fatto che uno dei miei compagni animali è pronto ad opporre un uovo. Hanno aggiunto questa cosa dove potete produrre, diciamo, i vostri animali, fargli deporre le uova e, soprattutto, appunto, richiede del tempo reale. Quindi, come anche alcune missioni vi chiedono di tornare dopo determinate ore o giorni, qua la stessa cosa. Tra l'altro, io non trovo il mio compagno animale, quindi non ho idea di dove possa essere. Comunque, intanto, abbiamo... Vediamo un po' se quella caricatura li ho già scansionata. Sì, direi di sì. Volevo andare a vedere un'altra cosa. Poi vi dico, un po' di effetti grafici non si notavano prima. Adesso ci sono, tipo, queste... Quest'atmosfera qua, queste... Quest'aria, questi pollini che volano in giro. Poi il pianeta è quello che è, nel senso che anche l'illuminazione... Guardate qua il sole che va a fare ombra. No, 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 è cambiato tanto. C'è questa patina davanti che non fa sembrare il gioco un fumetto. E poi, vedevo anche da altri video, che all'interno delle caverne è cambiato un po' l'atmosfera. Ci sono queste illuminazioni su cui... Eh, sì, sì, guardate che roba, le ombre. È un gioco completo, No Man's Cry? Probabilmente ora sì. Per quanto rimanga, diciamo, in un limbo di un genere a sé. Nel senso che avete la storia, andate a inseguire queste cose molto astratte, molto filosofiche. Per certi versi mi ricorda anche The Talos Principle, questo viaggiatore, l'inseguimento di questo tizio sparito, parla in modo criptico il fatto di viaggiare all'interno di una galassia enorme. Che roba è questo? Ma che spettacolo! Un lago sotterraneo. Sì, qua. Sì, qua fa un po' un effetto strano perché si vede tipo un riflesso del cielo, della luce, ma in realtà non c'è. Però, che roba. Per pensare quanto c'era all'inizio e quanto c'è adesso. Dicevo, poi... Scusate. Eliminiamo la flora pericolosa prima che sia troppo tardi. Che mi dà ossigeno. Che mi fa comodo. Sì, ne possiamo metterlo. E lì va avanti però la caverna. Eh, sì, ma è un po' pericoloso. Quindi me ne vado prima di lasciarci le piume. Ah, sì, avevo preso anche questi stivali col doppio tocco che salta in avanti. Cosa che non avevo mai visto. Adesso non mi ricordo più come si fa. Mannaggia, l'avevo preso. Ok. Questa è una nave esotica. Comunque, dicevo, c'è una storia. Poi in realtà il fatto è che esplorate una galassia ne arrivate al centro e da quanto ho capito poi si accede a un'altra galassia e ce ne sono un infinito numero. Poi potete essere dei pazzi scatenati e decidere di andare a essere i primi ad accedere a una galassia in più di quella che è mai stata esplorata. Ce ne sono veramente un'infinità. quindi la proceduralità è estrema. L'hanno resa molto più varia. Hanno ampliato, diciamo, quello che era l'algoritmo ai tempi. Molto più limitato. Ma poi alla fine dipende quanto siete aperti voi mentalmente. Nel senso che se poi tutti i pianeti vi sembrano uguali già guardandone due magari non è il gioco che fa per voi. se magari non finite mai di stupirvi questo potrebbe essere un ottimo gioco per voi. Questo è il senso di No Man's Cry. È un gioco che comunque mantiene una certa rilassatezza, un andamento diciamo lento per quanto riguarda il il gameplay, la storia perché comunque nulla vi mette fretta. potete fare comunque quello che volete. Che roba. Che poi dovrebbe essere forse una peculiarità di questo pianeta questi pollini qua in giro questi animali qui. Il fatto comunque di avere questa particolarità di queste montagne stile muraglia questi panettoni in mezzo al lago il lago sottomarino che si vede addirittura da qui. Cioè se vi perdete di fronte a una cosa del genere il gioco fa per voi. se siete quelli che corri, salta, spara che è sta roba ma no sicuramente no. Sicuramente è un gioco molto ampio calcolando anche che hanno aggiunto tutta la gestione delle basi abbastanza profonda con la generazione dell'energia il collegamento le batterie il collegamento ai vari circuiti potete fare quello che volete ora c'è anche da anni ormai anche il multiplayer. Ho voluto fare questo video per esplorare insieme a voi le bellezze della nuova grafica vedete che scatticchia anche un po' a dire la verità quindi qua mi consigliava un amico di cancellare la cartella degli shader del gioco e farli se non sbaglio farli ricreare perché magari dopo averlo disinstallato e installato c'è stato il cambio della grafica qualche scattino c'è però si percepisce un pochino di magari di pesantezza ancora dovuta magari vedere la dimensione degli ambienti è la nuova grafica comunque no adesso spettacolare vi consiglio No Man's Cry assolutamente sì se amate i viaggi nello spazio se amate i survival se amate l'esplorazione e amate anche non avere eccessive tensioni nel senso che ok qua si rischia di morire in ogni angolo in ogni pianeta perché dovete tenere d'occhio magari la tuta i parametri e tutte quelle cose lì però il fatto comunque di prendervi il vostro tempo di esplorare con calma di scansionare il gioco vi darà tutti comunque i mezzi per capire in che luogo state andando se vi metteranno fare tale guardie le sentinelle se saranno presenti o meno di cose insomma per andare lenti gli strumenti per poter andare lenti al vostro rismo ci sono quindi io ve lo consiglio al mille per mille molto bella la grafica molto bello il gioco mi chiedo lo svilupperanno ancora? beh calcolate che se lo iniziate adesso avete contenuti per centinaia di ore se lo svilupperanno ancora aggiungendo altre cose hanno aggiunto per dire alla subnautica tutte le basi sottomarine quindi se volessi magari fare una base di sotto lo potrei fare interamente e sotto parte un altro mondo perché sotto c'è qua possiamo scansionare l'ambiente sotto ne possiamo scansionare un altro fare altre cose per cercare cose sottomarine quindi da fare ne avete qua abbiamo il nostro la possibilità di offrire cibo e di cavalcare anche le cariature ho visto che non è possibile prendere le cavalcature volanti quindi volare con quelle ma in fondo che ce frega che abbiamo la nostra astronovina questo era Nome Sky all'ultima versione gioco consigliatissimo da Indie Game Plate per quello che può contare un abbraccio a tutti fatemi sapere le vostre esperienze soprattutto mi interessa sapere se siete magari non lo conoscevate lo conoscevate mai magari il primo video di Nome Sky che vedete se vi ho convinto anche solo dell'1% apparenderlo quando lo avete schifato magari per dei mesi fatemi sapere e un saluto e ciao ciao Nome Sky Grazie a tutti.